Buongiorno da Rai Parlamento e bentornati a Sette Giorni. Una puntata questa di oggi che è tutta dedicata alle nostre imprese, al Made in Italy, dunque ai nostri prodotti che sono amati e anche acquistati in tutto il mondo. Dalla moda all'arredamento, dall'artigianato all'agroalimentare, i punti di forza e di debolezza delle nostre aziende, anche le richieste che arrivano dal mondo degli imprenditori e poi le novità in arrivo, dunque le nuove misure anche fiscali che sono all'attenzione della politica per rendere più competitive le nostre aziende e per agganciare la ripresa. Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti di oggi, Paolo Giraud, direttore del Dipartimento Estero di un'impresa, Maria Ines Aronadio, responsabile dell'ufficio agroalimentare dell'ICE, l'agenzia che si occupa della promozione delle nostre imprese all'estero e Armando Branchini, vicepresidente di Alta Gamma. Buongiorno e benvenuti ai nostri ospiti. Allora cominciamo subito con i nostri servizi. Partiamo dall'export, un vero e proprio motore per la crescita delle nostre imprese. Allora vediamo come stanno andando le cose per il nostro Made in Italy sul fronte delle esportazioni. Con Simona Giacinti. Nonostante il rallentamento registrato negli ultimi mesi, l'export delle nostre imprese resta vincente. Nel 2015, con un saldo positivo di 122 miliardi di euro, il momento d'oro di una ripresa iniziata nel 2009 e proseguita da allora con miglioramenti costanti. Meccanica, abbigliamento, arredamento, agroalimentare. Queste, secondo i dati della CGA di Mestre, le quattro grandi aree merceologiche che hanno trainato la nostra economia anche nei lunghi anni della crisi. Una stagione difficile che, sei anni fa, ha vissuto un importante punto di svolta con un saldo positivo di 92,3 miliardi, proseguendo poi a rialzo anche nel 2013 e 2014. Tra i nostri partner commerciali al primo posto resta la Germania, che lo scorso anno ha acquistato prodotti italiani per oltre 30 miliardi. A seguire Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e la Svizzera. Il nuovo anno però si è aperto con qualche difficoltà. I dati Istat relativi ai primi quattro mesi registrano un rallentamento complessivo dell'export dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2015. In particolare si è ridotto il commercio al di fuori dell'Unione, verso i mercati cinesi e brasiliani. In calo anche la Russia, il Medio Oriente e il Giappone, mentre negli Stati Uniti gli acquisti made in Italy rimangono stabili. Nonostante questa sofferenza alcuni settori hanno continuato a marciare a ritmo sostenuto. Bene la farmaceutica, l'elettronica, in sofferenza invece il tessile e l'abbigliamento. Il made in Italy resta comunque il nostro punto di forza, la conferma da un recente studio di Confindustria, le piccole e medie imprese, forti di una grande specializzazione e della cultura, del cosiddetto BBF, del bello e ben fatto, continuano a conquistare il mondo. Un esempio per tutti il settore agroalimentare che rappresenta oltre il 7% dell'export italiano e che nei primi mesi di quest'anno ha segnato un aumento del 3,3% rispetto al 2015. E ci sono alcuni settori, proprio come l'agroalimentare, lo abbiamo appena sentito, che continuano ad avere un segno più. Però, Giro, c'è da dire che nei primi mesi un rallentamento c'è stato sul fronte delle nostre esportazioni. Naturalmente non si può generalizzare, è un rallentamento settore per settore. Che cosa sta succedendo? È un rallentamento fisiologico? Quali sono soprattutto le cause? Sì, l'accento su un rallentamento fisiologico è giusto. Nel senso, un per cento di rallentamento bisognerebbe interpretarlo anche per settore, e quindi capire quali sono i settori che hanno sofferto di più. La questione dei mercati esteri è legata all'evoluzione del mercato globale in generale. Quindi molte delle economie emergenti stanno subendo dei cambiamenti generazionali importantissimi che vanno a incidere sulla metodologia d'acquisto, sul profilo dello stesso consumatore e che ovviamente impegna poi diversi risultati commerciali per quelle che sono le nostre eccellenze. Il campo dell'agroalimentare è un gran successo in questo momento, è l'onda lunga dell'Expo che è stato comunque un successo viaggiando all'estero, se ne sente parlare e ovviamente questo accento forte sulla sicurezza alimentare è molto apprezzato nei grandi paesi. A parte l'agroalimentare, Aronadio, quali sono i prodotti che tirano di più del Made in Italy all'estero? Sicuramente i prodotti del cosiddetto Made in Italy di lusso. Allora noi siamo esportatori di questi beni di lusso e addirittura un'indagine fatta da alcuni consulenti di livello internazionale parlano del fatto che l'Italia sia addirittura il terzo se non il secondo fornitore di beni di lusso a livello globale, quindi parliamo di tutta l'alta moda, della gioielleria, dell'occhialeria e anche delle calzature. Moltissimi prodotti, però Branchini c'è da dire che dopo una lunga serie di stagioni che possiamo definire davvero d'oro, anche il segmento del lusso ha avuto un rallentamento in questi primi mesi dell'anno? Ha avuto un rallentamento già nel secondo semestre dell'anno scorso, ma la domanda mondiale. Allora quello che è importante e che vorrei sottolineare è che se pure cresciamo meno la domanda mondiale continua a crescere e le imprese italiane continuano a crescere, cioè mantengono la quota di mercato e non la perdono e questo credo che sia un fatto straordinario. Quali sono i mercati principali per il nostro brand del lusso? In particolare quelli anche dei paesi emergenti, pensiamo alla Cina, delle potenzialità enormi ancora da conquistare? Dei BRIC possiamo parlare dopo in termini globali, per quanto riguarda il settore dell'alta gamma del lusso non c'è dubbio che il primo mercato al mondo aggregato è l'Europa, il secondo sono le Americhe e il terzo è l'Asia. Come mercati geografici? Se consideriamo invece i mercati in termini di nazionalità, di origine dei consumatori, i cinesi nell'anno 2000 contavano lo 0,2% dei consumi mondiali, nel 2015 il 30%. Una crescita vertiginosa. La crescita straordinaria di una classe media medio alta che si è realizzata nella rivoluzione economica cinese, si parla sempre della rivoluzione culturale in Cina, ma la rivoluzione economica è stata ancora più importante e soprattutto continua, dallo 0,1% al 30%. Ah, non addio, ma sono cambiati anche i consumatori negli ultimi anni? Beh, certo, sono cambiati i consumatori, è cambiata la maniera di vendere, non dimentichiamoci infatti questi famosi millennials che rappresentano i nuovi, chiamiamoli tra virgolette, giovani, che hanno un potere di acquisto medio abbastanza elevato e che puntano assolutamente sui prodotti dell'alto di gamma. Parlando appunto di nazionalità, confermo quanto detto, la Cina rappresenta davvero una sfida. Sulla maniera di vendere non dimentichiamoci che l'e-commerce rappresenta davvero una possibilità anche per un paese come l'Italia che non ha strutture commerciali all'estero. Questo però, su questo fronte, segniamo un po' il passo, malgrado siamo cresciuti parecchio in quest'ultimo anno, una crescita significativa, ma siamo ancora molto indietro rispetto ai nostri principali competitor. Io non credo. No, Branchini... Io non credo. Questi sono i dati, magari i dati, le statistiche non sempre colgono l'essenza delle cose? Normalmente quando si parla del digitale in Italia si dice quanti italiani utilizzano gli strumenti digitali. Qui invece la prospettiva che lei ha dato è differente. Quanto le imprese capaci di competere italiane utilizzano il digitale non tanto in Italia ma nel mondo intero? E su questo noi siamo avanti. Su questo siamo avanti? Siamo avanti. Concorda, Giro? Sì. Sì, ma... Con riserva. Con riserva. In effetti è vero parlare di nuovi sistemi di consumo è molto corretto, soprattutto nei nuovi mercati. Nei mercati che noi vediamo come primo riferimento, la Cina, l'India che si sta avvicinando. Ci sono mercati che crescono come il Vietnam in ambito asiatico, che guardano a noi e che però hanno subito nel cambio generazionale un nuovo tipo di approccio con il prodotto. E-commerce prima di tutti. Sull'e-commerce io vedo che i sistemi, che poi sono molto indipendenti perché non sono sistemi globali, ma sono sistemi centrati e organizzati sul paese stesso perché coinvolgono la logistica. Quindi la Cina su tutti è ovviamente mantiene il controllo di questi cicli perché ha il controllo della logistica interna. Questi sistemi gli italiani non stanno facendo abbastanza rispetto ai nostri concorrenti. Nonostante abbiamo la base ricchissima di prodotto da offrire, ma non facciamo abbastanza a livello imprenditoriale per entrare su questi cicli complessi. Allora, a livello imprenditoriale, il nostro modello produttivo, lo sappiamo, è basato soprattutto sulle piccole e medie imprese. Questo è un modello ancora vincente, possiamo dire che è piccolo e ancora bello. In questi giorni il ministro allo sviluppo economico Calenda ha detto che è un passaggio obbligato anche per agganciare la ripresa, per un'autentica politica industriale, la crescita dimensionale delle imprese. Lei è d'accordo? Io sì perché il mercato si sta evolvendo, il mercato ricettivo per il made in Italy, se stiamo parlando di agroalimentare e di moda, è sicuramente cambiato e cerca la qualità legata al prezzo. Per far questo le grossissime aziende che si muovono in maniera indipendente devono scendere a compromessi globali finanziari, di acquisizioni, mentre le piccole imprese ovviamente devono avere un aiuto di immagine per penetrare questi mercati che deve venire dalle istituzioni che ci rappresentano. L'aggregazione è la risposta, ce lo stiamo dicendo tutti i giorni, che aggregare e ricreare armonia nei distretti produttivi italiani può essere la risposta. C'è questa volontà di aggregarsi? Sì, manca forse nel nostro DNA da italiani, anche se io ho delle origini francesi, però manca nel DNA dell'italiano proprio il fare sistema. I francesi, i nostri principali competitor insieme ai tedeschi. Andiamo ora proprio in un distretto, sentiamo Serena Mautone. Siamo a pochi chilometri da Bari, non lontano dai trulli di Alberobello si trova il cuore del distretto della Moda Pugliese, una delle realtà imprenditoriali più importanti per l'economia di questa regione, sia in termini di fatturato che per numero di addetti. Ben 7.000 imprese che danno lavoro a 38.000 persone, insieme a quello napoletano il distretto tessile più grande del Mezzogiorno, con una cultura dell'export ben radicata. Ma la vocazione ad esplorare i mercati d'oltre confine da almeno un paio d'anni ha dovuto confrontarsi con difficoltà sempre crescenti, che hanno ridotto a sensibilità di un'azione, la svalutazione del rublo seguita alla crisi ucraina e la contrazione dei mercati orientali, in particolare della Russia che fino al 2014 rappresentava per il Made in Italy uno degli sbocchi principali. Quindi la ripresa passa dalle esportazioni per forza? La ripresa passa dall'export e da quello che potranno essere i nuovi scenari sui mercati internazionali. Ci auguriamo che il prezzo del petrolio, possiamo dirlo, torni a salire per dare vita a tutti i mercati mondiali. Prima della crisi ucraina il valore dell'export sfiorava il 20% del fatturato, quasi 600 milioni di euro l'anno, secondo i dati della Camera di Commercio, che sono fermi al 2012. Un risultato non banale per una realtà giovane. Il distretto nasce nel 2009, è una reazione alla crisi del 2008 all'inizio? È una reazione alla crisi del 2008, una grande volontà di poterci mettere insieme e poter fare qualche cosa di più. Però anche lì ci vuole carburante. Il carburante sono dei nativi che arrivano da tutte le parti del mondo. Il mercato interno, il mercato italiano, comunque ha mostrato le sue criticità. La capacità di spesa del cliente italiano è molto diminuita in questi ultimi anni. O comunque si è orientata verso altri settori. Il distretto raggruppa tutte le aziende tessili pugliesi, ma i poli produttivi sono essenzialmente tre. L'area del Sud Barese, che si è sviluppata intorno ai comuni di Potignano e Martina Franca, specializzata in abbigliamento per bambini e in abiti da sposa. Una più a nord è la cosiddetta Conca del Nord Barese, che fa riferimento alla provincia Barletta-Andreatrani. E poi il Salento, specializzato in abbigliamento casual e jeans, tutte con una buona capacità di tenere testa la concorrenza internazionale. Qual è di queste tre aree quella che esporta di più? Ce la contendiamo. Non potrei fare una statistica in questo senso, ce la contendiamo. Ritengo che quest'area, questa del Sud-Est Barese, potrebbe essere quella che esporta di più. Ma dipende un po' anche dalle stagioni, dei flussi di ordini e di clienti che ci sono. Le metterei sullo stesso piano. Una delle principali insidie per i nostri prodotti made in Italy è rappresentata dalla contraffazione. È proprio il settore della moda, è uno dei più colpiti. Allora, ne parliamo con il Maggiore Alberto Franceschi, del Comando Generale della Guardia di Finanza, che ci ha raggiunto in studio. Maggiore, quanto pesa l'industria della contraffazione proprio sulla filiera della moda? Sicuramente ha un peso importante. Nel corso del 2015, come Guardia di Finanza, abbiamo sequestrato oltre 390 milioni di pezzi nell'intero territorio nazionale. Di questi, oltre 30 milioni hanno riguardato il settore dell'abbigliamento, quindi anche il settore della moda. Se poi andiamo a guardare la localizzazione di questi sequestri, ecco, di questi 30 milioni del settore abbigliamento, oltre il 10% ha interessato le regioni del Sud, in particolare la Puglia. Possiamo fare delle distinzioni all'interno del mercato del falso? Non sempre i consumatori sono consapevoli di acquistare prodotti falsi? No, non sempre. Oramai è chiaro che le imprese criminali che operano nel settore sono altamente specializzate, quindi abbiamo prodotti contraffatti, visibilmente contraffatti, abbiamo prodotti anche di qualità. Anche per questioni di prezzo, visibilmente contraffatti? Certamente, visibilmente contraffatti anche per questioni di prezzo. ci sono prodotti in commercio a prezzi irrisori, e questo chiaramente deve essere un campanello d'allarme per il potenziale consumatore, ci sono dei prodotti che vengono posti in vendita ad un prezzo vicino al prezzo di vendita del prodotto originale. E quindi per il consumatore è sicuramente più difficile accorgersi dell'acquisto di un prodotto contraffatti. Sono frequenti i casi di questa tipologia di prodotti contraffatti di cui lei sta parlando? Oramai direi che sono abbastanza frequenti. Un caso esemplare lo abbiamo scoperto nel corso del 2014-2015, quando i colleghi di Fiumicino si sono resi conto durante un'indagine che delle scarpe di una nota marca di moda italiana venivano prodotte in realtà con cliché originali delle scarpe. Quindi in realtà era pressoché impossibile rendersi conto di essere in presenza di un prodotto contraffatto. La particolarità in questo caso è stata quella di accorgersi che per i numeri pari questa organizzazione era in possesso del cliché, per i numeri dispari non era in possesso del cliché, per cui per la produzione del numero dispari allungavano il numero pari in loro possesso. Si sta sempre più specializzando, ahimè, l'industria della contraffazione. Branchini, ed è una piaga quella della contraffazione, dei falsi, dei prodotti tarocchi, in particolare proprio per i marchi di lusso. Nei cento primi marchi mondiali più colpiti dalla contraffazione nella classifica dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane ci sono dieci marchi italiani e sono, cominciando da Gucci e finendo per Versace, sono tutti molto importanti, molto notti e tutti soci di alta gamma. volevo cogliere l'occasione, parliamo di contraffazione, sono lieto che la Guardia di Finanza continui a essere il principale baluardo e supporto della nostra industria nella lotta alla contraffazione, per la verità anche con alcuni comuni che a livello di organizzazione della polizia non aria si sono attivati negli ultimi anni, ma qual è la ragione per cui la contraffazione è dannosa? perché a livello del pensiero comune, che il pensiero di massa spesso è infantile, è il fatto di dire perché costa meno rispetto e perciò toglie delle vendite. In realtà il danno che la contraffazione fa nei confronti delle imprese che progettano e producono prodotti autentici è molto più subdolo, perché quando un prodotto è progettato e pensato per pochi, quando diventa per tutti attraverso il falso, ecco che allora l'appeal, il valore del prodotto per pochi viene a morire, il prodotto che viene largamente copiato smette di poter essere venduto. E questo perciò è un danno reputazionale di immagine fondamentale e questo spiega perché normalmente tra le aziende italiane di alta gamma l'investimento per difendersi dalla contraffazione nel mondo intero è attorno all'1% del fatturato, può sembrare poco, ma che se consideriamo che in un'azienda nel nostro settore dove si investe molto gli investimenti sono il 10 o l'11% del fatturato, ecco che allora capisce che l'investimento in lotta alla contraffazione diventa il 9 o il 10% degli investimenti. Cioè una cifra, un'azienda che fa un miliardo di fatturato deve investire almeno 10 milioni all'anno per difendersi dalla contraffazione. Ecco però difendersi dalla contraffazione è un addio al di là di quello che si può fare a livello nazionale, non solo a livelli di controlli come abbiamo sentito dalla Guardia di Finanze, a livello anche di investimenti proprio da parte delle imprese del lusso, però bisogna agire anche all'estero e noi sappiamo che spesso le normative negli altri paesi, in particolare naturalmente al di fuori dell'Unione, non ci aiutano in questo. Assolutamente no e il fenomeno della contraffazione, così come il fenomeno dell'Italian Sounding, che non dobbiamo dimenticare, sono dei fenomeni che è difficilissimo controllare a livello nazionale. Disto che ha citato l'Italian Sounding, spieghiamo ai nostri telespettatori che cosa significa? Allora l'Italian Sounding, così come dice la parola, significa evocare attraverso una etichetta che si collega con territori, con definizioni descrittive di un prodotto, i territori, le qualità italiane, non essendo però italiane. Un esempio è il parmesan americano? Il parmesan, esattamente. E allora questo cosa significa? Significa che in un certo senso non c'è in realtà un reato, come nel caso della contraffazione, ma c'è comunque un danno a quello che è l'abitudine del consumatore, il consumatore in realtà che viene veramente danneggiato, perché si illude di acquistare un prodotto italiano, ma in realtà acquisto qualcosa che dal punto di vista anche qualitativo non ha nulla a che fare con il prodotto italiano. Ed è per questo che tra le misure che si stanno portando avanti, prima o fra tutti c'è tentare di creare degli osservatori in vari punti dei principali mercati all'estero. Quindi sono stati creati infatti, su spinta del Ministero dello Sviluppo Economico, dei desk anti-contraffazione e di monitoraggio dell'Italian Sounding su quattro mercati principali. E questo dell'Italian Sounding, Giro, questo è un aspetto che preoccupa anche il Ministro Calenda. Mi riferisco ai negoziati in corso per il Trattato di Libero Scambio Commerciale tra Unione e Stati Uniti, negoziati che vanno avanti da tempo, il TTIP al centro anche di forti critiche. Questo è un nodo da sciogliere a costo di far saltare i negoziati. Così ha detto Calenda, dobbiamo essere tutelati su questo. Sì, il TTIP è un esempio, non è l'unico tra l'altro, non si cita ad esempio che è in corso di svolgimento un altro Trattato di Libero Scambio altrettanto forte, magari non così potenzialmente, che è quello con l'area ASEAN, quindi tra Comunità Europea e ASEAN, che è un secondo mercato di riferimento dopo la Cina del futuro. TTIP e FTA che si sta facendo tra Europa e ASEAN ovviamente è gestito da un organo super partes, che è la Comunità Europea. In questo senso è vero che ci sono dei vantaggi che saranno sicuramente disponibili per le nostre esportazioni, ma ci sono anche degli svantaggi che vengono dalle pressioni che arrivano da altri paesi che producono prodotti diversi. Perché può essere un rischio e perché invece è un'opportunità? Si parla appunto della possibilità di lasciare libero spazio in uno squilibrio totale di dimensionamento di impresa e di valori finanziari tra le aziende italiane e quelle americane. In sostanza potrebbe essere più a vantaggio delle multinazionali e a danno delle piccole e medie prese, questo è il timore? Esattamente. Si tema che noi non riusciremo ad avere quel potenziale aggregante per presentarci a pari livello con la strapotenza commerciale dei grandi gruppi del settore, soprattutto agroalimentare americano. Aronadio, anche lei concorda? Io concordo assolutamente, anche se poi uno deve sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, oltre che mezzo vuoto. In che senso? Il ragionamento che abbiamo seguito nella definizione della strategia della promozione dell'agroalimentare negli Stati Uniti, parlo di un settore abbastanza importante dal punto di vista della salute del consumatore. E' chiaro che tra Italian Sounding e Contraffazione abbiamo qualcosa come 60 miliardi di prodotti non italiani, ma che vengono passati come prodotti italiani. Nel guardare il bicchiere mezzo pieno questo significa che c'è una fame di 60 miliardi di prodotti italiani in giro per il mondo. Quindi un'opportunità che teoricamente l'Italia potrebbe utilizzare. Anche per lei, Branchino, è un'opportunità? Le aziende di cui io mi occupo, il problema dell'Italian Sounding, non ce l'hanno perché hanno dei marchi forti. Però se posso vorrei dire una parola a proposito del TTIP. Perché ci sono molte leggende metropolitane a questo proposito. E vorrei dire che la nostra posizione è che con free and fair competition si vince tutti, tutti nella storia italiana dal 1945 in poi, tutte le volte che sono stati aperti i mercati, l'Italia ha avuto stimoli competitivi che il protezionismo aveva in qualche modo tuso, limitato, e l'Italia ha dato sempre l'imprenditoria italiana da il meglio di sé quando ci sono delle sfide. Andiamo avanti ora con i nostri servizi. Tra le nostre eccellenze, le cosiddette 4A che spingono il Made in Italy, oltre all'abbigliamento, all'agroalimentare, all'automotive, c'è anche l'arredo casa. Ce ne parla Maurizio Severino. Viene ancora fatto a mano da mastri immobiliari su queste colline a due passi dall'Adriatico e arriva fino al Medio Oriente, alla Russia e ad altri mercati lontanissimi. Il mobile di Pesaro nasce in aziende come questa, dove si usa ancora il metro, i tagli sono fatti su misura e c'è sempre qualcuno seduto ad una macchina per cucire. Rappresenta un settore nel quale famiglie, tante imprese, tante famiglie, tanti artigiani, dal dopoguerra in avanti, hanno cominciato a costruire il loro benessere, la loro fortuna, sviluppando una fitta rete di aziende, di artigiani, di terzisti, portando in molti casi benessere nel distretto. Quello di Pesaro è il terzo distretto per importanza in Italia con 1.500 imprese, in maggioranza artigiane ed esportazioni per oltre 320 milioni di euro con un più 10,5% nel quarto trimestre 2015, nonostante una crisi che ha lasciato sul terreno un'azienda su cinque. C'è stata una selezione, una selezione forte, una selezione importante che in un certo senso però ha ridato anche vigore a questo settore perché i player che sono rimasti, le aziende che sono rimaste in gioco oggi hanno saputo combattere, sono riuscite a ridarsi spinta facendosi forza, puntando su quelle che sono le cose oggi indispensabili per poter lavorare nei mercati che danno soddisfazioni, principalmente quelli esteri. In difficoltà si sono trovate le aziende che erano più orientate al mercato interno anche se oggi, finalmente, davanti a questo dato è tornato il segno più ma la concorrenza straniera è agguerrita, soprattutto dove la manodopera costa meno e allora per essere competitivi serve una ricetta classica. Lavorare sulla propria capacità di produrre prodotti di qualità quindi il made in Italy è una definizione che già di per sé aiuta quando un prodotto ha come base di partenza l'Italia però dietro ci deve essere un prodotto, ci deve essere concretezza non basta l'etichettina con scritto made in Italy. La domanda ora è più frammentata, si richiede meno quantità e più qualità se prima si riusciva a produrre in serie oggi è facile che il cliente chieda un dettaglio diverso su ogni mobile e allora per guardare al futuro servono idee nuove ma anche un ricambio generazionale perché un po' per la crisi, un po' perché sono lavori manuali forse poco attrattivi per i ragazzi degli anni 2000 il rischio è quello che non ci sia una nuova generazione di mastri mobilieri all'altezza proprio adesso che si torna a investire nel mobile di qualità e c'è più che mai bisogno di ogni eccellenza del made in Italy. Maggiore Franceschin, il settore dell'arredamento dei mobili è esente dalla contraffazione? No, non è sicuramente esente possiamo dire che oggi non abbiamo settori merceologici esenti dalla contraffazione è probabilmente un settore meno esposto almeno dai dati di nostro possesso rispetto a prodotti di elettronica o di più largo consumo ma non è un settore sicuramente esente da contraffazione e abbiamo anche in questo caso avuto delle conferme nei risultati del 2015 e anche di quest'anno. La contraffazione si sta specializzando in particolare corre veloce sul web sul quale si può trovare una lista pressoché inesauribile di prodotti falsi e contraffatti ecco, questo non imporrebbe anche una strategia diversa nel contrasto alla contraffazione? Controlli diversi? Voi come operate? C'è la necessità di monitorare la rete oggi e devo dire che come guardia di finanza lo facciamo ormai da diverso tempo lo facciamo con dei reparti specializzati nella ricerca di violazioni economico-finanziarie sul web IV inclusa, chiaramente la contraffazione attraverso la partecipazione ad operazioni internazionali nel cui settore siamo molto attivi anche nel web e attraverso lo sviluppo di software, di piattaforme d'analisi pochi mesi fa abbiamo lanciato una piattaforma di analisi della rete web che permette un'analisi della rete web in chiave anti-contraffazione quindi un nuovo strumento per combattere questa perioda un nuovo strumento dal quale ci auguriamo di avere un ritorno rilevante naturalmente questo è anche il nostro auspicio Branchini sentiva prima nel servizio si diceva che occorre anche un ricambio generazionale in certi settori possiamo dire che in qualche modo si sono accorciate le distanze negli ultimi tempi che certi vecchi mestieri artigianali sono tornati ad essere attraenti nei confronti dei giovani non c'è dubbio, quello dei cuochi è un esempio straordinario come un mestiere che un tempo non era neanche considerato adatto agli uomini e ai maschi sia diventato invece e noi siamo convinti in questo senso stiamo lavorando a un progetto di scuola politecnica del saper fare italiano proprio perché la struttura produttiva ha bisogno sia quella di eccellenza che quella italiana nel suo complesso ha bisogno di avere un allineamento forte tra le persone che escono dalla formazione tecnica e professionale italiana e invece per una serie di ragioni questo non è più così lo era fino alla metà degli anni 70 la maggior parte dei tecnici dell'industria italiana usciva dagli istituti tecnici e le scuole professionali da allora poi sono stati liceizzati gli istituti tecnici si sono burocratizzati non c'è stata forse una selezione molto forte del personale docente delle materie tecniche a vantaggio invece dei docenti delle materie umanistiche più tradizionali per cui diciamo avevamo un patrimonio formativo in Italia da 45 al 75 simile a quello tedesco o francese poi lo abbiamo distrutto in realtà questo è un settore che può rappresentare un importantissimo sbocco professionale per i giovani soprattutto in questi anni di crisi Giro sì mi viene da agganciare un ragionamento che prima facevamo con la dottoressa De Lice riguardo un meccanismo un po' sottovalutato a dire il vero anche come informazione che è quello del reshoring cioè il cercare di far rientrare in Italia il manufatturiero su larga scala noi ce lo siamo persi negli anni però si sta assistendo negli ultimi tempi al rientro di alcune aziende dall'estero sì, citavamo che forse l'Italia addirittura in Europa non è un caso perché noi siamo comunque il bacino più ampio di piccole e medie imprese è il paese leader del reshoring quindi è il paese che sta attraendo di più il rientro delle attività produttive proprio legate al settore manufatturiero andrebbe incentivato andrebbe incentivato perché è ovvio che sulle dinamiche del mercato globale che sono ovviamente molto richiedono una grande competitività l'Italia ha necessità di generare cicli lavorativi con una fiscalità decisamente più ecco, proprio noi siamo poco competitivi questo lo dicono i dati dove intervenire si sta discutendo a livello politico ad esempio sull'abbassamento sulla riduzione del cuneo fiscale da qui che bisogna ripartire le piccole e medie imprese chiedono proprio questo il rischio altrimenti è in settori trainanti della nostra economia quello di vedere una migrazione continua delle imprese che potrebbero rientrare in Italia nel generare nuovi posti di lavoro nel generare addirittura anche una risposta una soluzione all'immigrazione che riceviamo continuamente non abbiamo una risposta di sistema da parte del governo le piccole e medie imprese si impegnano a investire investire anche nell'innovazione c'è una propensione in questo non molto alta da parte delle piccole e medie imprese l'impegno va con l'economia del paese quindi l'impegno oggi purtroppo le priorità per le piccole e medie imprese risulta essere quella della sopravvivenza e purtroppo se quella è la priorità è difficile per un'azienda i numeri sono parlando di export incoraggianti dal punto di vista di tante aziende che avvicinano questo argomento insieme all'innovazione per esportare sono quasi 220.000 le aziende che in Italia operano sull'estero però solo 11.000 riescono a farlo in maniera consistente con l'innovazione per stare al passo con la concorrenza internazionale l'export lo abbiamo detto rappresento un volano importantissimo per le nostre imprese facciamo bene ma potremmo fare molto meglio è chiaro che ci sono ancora moltissime potenzialità da liberare quanto conta quanto incide anche la mancanza di una grande rete della distribuzione come ad esempio alla Francia per i nostri prodotti certo il fatto di non avere una rete di distribuzione made in Italy anche quella incide in qualche modo però devo dire che l'Italia dal punto di vista della capacità di rapportarsi con l'estero dove l'azienda è strutturata e produce un prodotto di qualità non ha grandi difficoltà nel senso che per dire made in Italy il marchio made in Italy le parole made in Italy sono le parole più cliccate sulla rete del web addirittura made in Italy è il terzo marchio dopo la Coca Cola e dopo la Visa quindi voglio dire in ogni caso a prescindere da quelle che sono le reti distributive il prodotto italiano quando è di qualità è vincente è sicuramente sui mercati più avanzati abbiamo delle ottime prospettive dal punto di vista dell'innovazione volevo soltanto sottolineare una cosa la quale spesso non si pensa soprattutto per il settore della moda la moda è uno dei settori più innovativi in assoluto rispetto a tutto il resto della produzione manifatturiera perché se pensiamo che due volte l'anno i nostri prodotti si presentano sul mercato nazionale internazionale con delle nuove collezioni anche quella è un'innovazione è un'innovazione che viene proposta sui mercati esteri allora qual è diciamo la leva sulla quale fare forza secondo me la leva sulla quale fare forza è proprio la capacità di legare la promozione del prodotto italiano a quello che c'è dietro il prodotto quella qualità di cui si parlava nel filmato per quanto riguarda il mobilificio che è stato intervistato quella ricerca del dettaglio e del particolare la comunicazione continuiamo a parlare di qualità anche in questo caso che però viene insidiata dalla contraffazione Carla Macrellino per lui che è innamorato del suo lavoro c'è tanto rimpianto tanto dolore direi proprio dolore fino signoretto a 71 anni più di 60 trascorsi a modellare con fatica e passione opere d'arte in vetro come questa mano protesa quasi ad implorare aiuto non ci sono più vetrai c'erano 360 fornaci ed erano piene c'erano fornaci con 60-70 operai oggi infatti sull'isola di Murano sono rimaste soltanto 150 fornaci e meno di 1200 operai 50 imprese artigianali sono riunite nel consorzio Promovetro e tentano di resistere ad una crisi che rischia di far scomparire questa eccellenza del Made in Italy apprezzata in tutto il mondo ma insidiata dalla burocrazia da vincoli ambientali e questioni fiscali e anche da una diffusa contraffazione contando che Murano nel suo complesso fattura circa 160-170 milioni di euro noi valutiamo da indagini che abbiamo fatto che la contraffazione vale tre volte tanto quindi si parla di 450-500 milioni di euro Per questo non è difficile fra migliaia di turisti trovare passeggiando per Murano scritte come quelle affittasi fornace o addirittura vendesi fornace Quando vedo queste fornace chiuse abbandonate mi si stringe il cuore veramente perché le ho viste in funzione le ho viste vive e adesso sono morte Dopo l'eliminazione di una serie di agevolazioni tra cui lo sconto del 45% sulla bolletta del gas usato per le fornaci e i costi più alti legati a trasporti da e verso l'isola sono rimasti in pochi i maestri vetrai che resistono sul mercato Noi dobbiamo essere assolutamente tutelati salvaguardati nel più breve tempo possibile Gli artigiani del vetro chiedono dunque al governo di istituire prima che sia troppo tardi un'area franca con interventi fiscali e investimenti in favore di queste imprese che sono per lo più piccole per promo vetro la contraffazione si combatte sostenendo il marchio vetro artistico di Murano istituito con un legge regionale del 94 per certificare l'origine di questi prodotti Il bollino può essere di due colori diversi o rosso in blu in base alla lavorazione e più in alto troviamo un numero che identifica il produttore Persino nei negozi dell'isola abbiamo trovato opere contraffatte che provengono dalla Cina o da paesi dell'est oggetti spesso esposti vicino ad altri degli artigiani di Murano e se già nel nostro paese può rivelarsi un'impresa distinguere un falso dall'originale l'impresa diventa ancora più ardua negli altri paesi dagli Stati Uniti alla Russia al Giappone Giro come si possono sostenere imprese come queste imprese artigiane che sono in crisi anche in questo caso bisogna muovere la leva fiscale quello è uno degli argomenti sui quali non si può prescindere esistono degli strumenti ovviamente che sono in sede di discussione a livello governativo sulla il peso fiscale sulla piccola media imprese indubbiamente genera la grande crisi di competitività sui mercati esteri aiutare le imprese necessita un lavoro a lungo termine da parte degli attori che possono fare cultura per ricreare la competitività internazionale noi come associazione di imprese stiamo facendo questo lavoro sui vari territori sui quali siamo presenti oltre 63 province italiane identificando distretti sui quali intervenire con un aiuto concreto di servizi alla piccola media impresa che in genere oggi come oggi esiste in Italia un assoluto potenziale di consorsi ad esempio inespresso che sono nati alla luce di iniziative volte soprattutto a intercettare fondi pubblici ma che sono oggi dichiarati dormienti in realtà si tratta di consorsi e quindi già forme aggregative sotto forma di rete di impresa che possono generare una ricchezza immensa per il nostro paese in termini di affrontare i mercati esteri Parliamo ora delle misure che sono state messe in campo per sostenere le imprese il taglio della componente lavoro dell'IRAP il super ammortamento per l'acquisto di macchinari e attrezzature la decontribuzione per i neoassunti e poi anche il recente decreto investimenti decreto investimenti che il ministro Padoan ha pubblicato alla fine di aprile due giorni fa il primo di giugno l'agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare interpretativa e questo è uno strumento a nostro avviso a mio avviso personale straordinario per consentire alle imprese competitive di fare investimenti in Italia e di fare reshoring dall'estero io credo che il concetto aiutiamo le imprese sia sbagliato dobbiamo spingere le imprese ad essere competitive perché come abbiamo sentito le piccole e medie imprese che continuano come 50 anni fa a competere a livello di prezzo e non hanno capito che in Italia bisogna competere sul valore quelle non lo può aiutare nessuno e c'è soltanto un'operazione di puro trasferimento di risorse pubbliche nei confronti di imprese perdenti noi dobbiamo stimolare l'Italia deve stimolare il sistema imprenditoriale e delle imprese ad essere sempre più competitivo e anche da trarre investimenti esteri nel nostro paese ma non si può pensare che noi tutti nasciamo piccoli i neonati sono piccoli e poi cresciamo quelli di noi gli esseri umani che rimangono piccoli negli anni si chiamano nani le nostre piccole e medie imprese in moltissimi casi sono non dei piccoli che sono diventati adulti ma sono tanti nani questi nani in moltissimi casi non sono competitivi non lo erano quando i mercati erano piccoli quando il nostro mercato era l'Europa lei si immagina come lo può essere nel momento in cui il mercato è diventato grande allora Ronadio per essere competitive sui mercati esteri anche lei concorda su questo gioco forza le piccole imprese devono crescere le piccole imprese devono crescere secondo me non soltanto come dimensione ma soprattutto come mentalità e come cultura la cultura aziendale che mira non tanto al prodotto quanto al mercato che è una banalità diciamo per chi si occupa di queste cose in realtà è un fenomeno ancora molto diffuso purtroppo e l'attenzione ai mercati esteri diciamo che è venuta a instillarsi nella mentalità di piccoli imprenditori proprio portati dalla situazione del mercato interno cosa che non dovrebbe essere dovrebbe essere il presupposto la domanda interna negli anni della crisi ha portato molte aziende ad affacciarsi alla finestra ad accogliere questa sfida Maggiore Franceschini io vorrei tornare a parlare di agroalimentare con lei perché in realtà abbiamo parlato di Italian Sounding e di ciò delle insidie quindi sugli altri mercati e nostri prodotti di qualità ma in realtà noi abbiamo molti prodotti contraffatti anche nel nostro paese non si chiama Italian Sounding ma sono frodi alimentari sicuramente abbiamo fenomeni di contraffazione alimentare e fenomeni di vera e propria frode è un fenomeno esteso è un fenomeno che in parte proviene dall'estero e in parte proviene dal territorio nazionale ed è un fenomeno posto in essere da vere e proprie imprese criminali che spesso acquistano prodotto dall'estero diverso sostanzialmente da quello che poi sarà dichiarato come in vendita e viene posto in vendita al consumatore finale nel corso del 2015 abbiamo sequestrato oltre 300.000 litri di prodotto liquido per lo più vini spumanti ed oltre 800 tonnellate di prodotti solidi tra i prodotti solidi rendicontiamo anche l'olio d'oliva che è forse assieme al vino ecco il prodotto maggiormente contraffatto o comunque maggiormente oggetto di frode alimentare in questo giro ci aiuta la normativa europea sulla frode sulla tutela dei nostri prodotti perché spesso si dice la normativa europea non ci non ci sostiene ma la normativa europea come già citato prima sui grandi temi dei accordi di libero scambio ovviamente deve avere un equilibrio e non può prendere le parti solo dell'Italia quindi è chiaro che citando un esempio dei nostri interessi a tutelare i marchi ritenuti diciamo leader del settore agroalimentare il parmigiano il gorgonzola mi viene da dire che ad esempio sono rimasto stupito di una nella contrattazione che sta avvenendo proprio in questi mesi sul libero scambio con l'area ASEAN che citavo prima i paesi di destinazione dei nostri prodotti hanno comunque fino alla fine di quest'anno il diritto di registrare quei marchi già presenti con Italian Sounding e quindi Parmesan che arrivano da destinazioni più disparate dal Canada dagli Stati Uniti garantendogli vita eterna nel loro mercato e questo è stato un raggiungimento per siglare l'accordo è stato un raggiungimento che è stato un compromesso che è stato dovuto essere messo in atto dalle nostre rappresentanze politiche però diciamo non va in favore della nostra idea di esclusivisti su determinati prodotti Altro importante capitolo sempre in ambito comunitario dunque dell'Unione Europea il cosiddetto Made in per introdurre proprio l'obbligo di indicare in etichetta per i prodotti non agroalimentari il paese di origine di provenienza questa è una battaglia tutta italiana i paesi nordici Germania in testa non sono molto d'accordo quanto è importante invece per il nostro Made in Italy in questo caso vincere questa battaglia ma sicuramente l'avere come dire un marchio che ci contraddistingue in maniera così precisa potrebbe essere un punto di forza ma io credo che sia ancora più importante comunque pensare a degli strumenti di educazione del consumatore grazie per essere stati con noi sette giorni finisce qui vi do appuntamento a sabato prossimo a tutti l'augurio di una buona giornata e grazie per averci seguito grazie a tutti Grazie a tutti.